Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE Raw! Oggi Raw sbarca in Inghilterra, siamo a Manchester nel pieno del Tour Europeo e pensate un po', oggi abbiamo un match stravagante messo a referto la sfida prendi la chitarra e vai, o spaccala in testa all'avversario, tra Elias, ovvero il chitarrista malinconico e Jason Jordan, il figlio di Cortango Alicia Fox ha inoltre in programma di vagliare altre ragazze dal roster che potrebbero aggregarsi al team femminile che rappresenterà Raw alle Survivor Series Voci di corridoio dicono che nel suo radar sono entrate Sasha Banks e Asuka, ma vista la follia persistente dalla Fox, io la mano sul fuoco non ce la metterei Ad aprire questa puntata di Raw sarà niente meno che The Miz, che nel suo talk show Miz TV avrà come ospite Kurt Angle Lui cercherà di strappare dalla labbra del general manager i nomi degli altri componenti del team di Raw, visto che al momento conosciamo soltanto il capitano Lo stesso general manager Kurt Angle e poi Braun Strow Eh sì, e poi c'è un'altra patata bollente Ah già, caspita, miseria, miseria Daniel Bryan che settimana scorsa è stato aggredito da Kane e quindi un'altra patata bollente per il general manager Kurt Angle Chiudiamo le anticipazioni ricordandovi che in azione avremo molti dei vostri beniamini come Seth Rollins, Taylor, Cesaro, Scimus, Samoa Joe, Enzo Amore e via dicendo Insomma ragazzi, chi più ne ha più ne metta Il fatto è che tra poco qui su Sky Sport si parte con WWE Raw! Yeah!